Ciao a tutti, nel video di oggi vedremo un po' di fuffa applicata del merlino, ovviamente sul vibrafono che è il mio strumento. Utilizzerò strane bacchette, qualcosa che mi sono inventato, e appoggerò degli oggetti sopra lo strumento. Quello che io faccio sul vibrafono potete farlo sul vostro set di tamburi, sulla batteria, sul vostro set di percussioni. L'idea che voglio darvi, lo stimolo che voglio darvi è di sperimentare. Quello che vi viene in mente provate a farlo. Qualche esempio. Uno strumento coperto. Uno strumento coperto. Questo è il mio strumento. Uno strumento coperto. lo facevo anche con la batteria. Prima di scoprire, di iniziare a studiare, fare le mie cose, ogni tanto mi capitava che nel tirare via il telo che copriva la batteria andava sopra i tamburi e provare a sentire il suono che ne veniva fuori. La stessa cosa l'ho applicata poi sul vibrafono lasciandoci sopra il telo. Fa una specie di sordina. Possono utilizzare degli oggetti da appoggiare sopra allo strumento. Sulla tastiera del vibrafono si possono appoggiare oggetti a seconda del coraggio, perché ovviamente il vibrafono un po' ne soffre. Sulle peli della batteria il problema, diciamo, è minore. In questo caso provo ad applicare dei piatti, degli iceberg, dei piatti rigidi e dei piattini recuperati, tagliando dei vecchi piatti. In questo caso, il vibrafono a scoprire dei pietri, tagliando dei piatti, tagliando dei piatti, Qualche piccolo esempio invece utilizzando delle bacchette differenti. Posso utilizzare delle bacchette per xilofono sul vibrafono per esempio, delle bacchette medio dure o addirittura delle bacchette morbide, una bacchetta di questo tipo sul vibrafono solitamente non si usa proprio. Spregando si produce un suono differente e molto interessante. Si possono provare ad utilizzare combinate tra di loro. Spregando combinando diverse bacchette ovviamente possono avere ancora più suoni e quindi le possibilità aumentano. Spregando Dis¿ýる 00roroo Utilizzando delle bacchette da batteria mettendo una gomma sulla punta delle bacchette. provando con bacchette più leggere questi sono i gommini per poter studiare quelli che si possono applicare sulla bacchetta queste sono delle bacchette per vibrafono rotte io le ho applicate qua sopra grazie a tutti altri tipi di bacchette, altri suoni non c'è fine se avete fantasia e avete un po' di praticità potete inventarvi delle bacchette io sono un personaggio molto poco pratico quindi solitamente cerco di utilizzare quello che trovo in commercio magari con piccole modifiche spazio oppure potensi spazio Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Oggetti da applicare sopra i tasti Carta forno Ovviamente il tasto vibrando produce un suono fritto diciamo E frigge, passatemi il termine Carta forno Ogni tanto mi diverto a dire che suono come cucino A livello di inventiva e a questo punto anche di materiale Carta forno Il suono che si cerca di richiamare è simile a quello della distorsione per la chitarra diciamo Carta forno Carta forno Ovviamente possiamo mettere su tutta la tastiera Questi sono solo esempi E combinazioni tra di loro Ormai è diventato una specie di suono mio classico Questo con la catenella Sfruttiamo ovviamente sempre la vibrazione del tasto E l'oggetto appoggiato sopra che rimbalza E l'oggetto appoggiato sopra che rimbalza Ora vi faccio vedere una cosa veramente molto sperimentale Nel senso che non volevo farvela vedere Sto provando ad inserire degli strati di policarbonato Sotto i tasti del vibrafono In questo modo ho un oggetto inserito sotto al tasto Non sopra al tasto Evitandomi così il problema di dover evitare l'oggetto O che l'oggetto cade O che l'oggetto si sposta Questo è veramente sperimentale Nel senso che non l'ho ancora portato in giro Tutti esi Ovviamente utilizzare degli oggetti da appoggiare Da inserire Da dover spostare poi durante il live E come ne parleremo in un'altra rubrica Che uscirà a gennaio Vedrete quindi nella prossima rubrica Vedrete come cerco di affrontare il problema Di utilizzare questi oggetti poi in studio di registrazione O dal vivo Ci sono dei problemi Ok? Però cosa ci interessa? Cerchiamo di ottenere un suono nuovo Cerchiamo di far sentire a chi ci ascolta qualcosa di nuovo Se l'audience cambia L'attenzione aumenta E noi ci divertiamo comunque di più Ciao a tutti Grazie Grazie a tutti